Quattro maschi e una ragazza, tutti sui vent'anni, giovani residenti tra Galliera Veneta, Cittadella e Tombolo, sono le persone che dovranno rispondere delle accuse di violenza di gruppo, diffusione illecita di immagini esplicite, minacce e lesioni personali ai danni di un coetaneo, di cui avrebbero abusato dopo che era svenuto al termine di una festa alcolica nel marzo 2021, riprendendo tutto con lo smartphone e poi diffondendo le immagini. La vittima ha presentato denunce ai carabinieri che hanno iniziato le indagini. Non contenti, due dei giovani accusati avrebbero affrontato l'ex amico rompendogli una costola e il naso a calci e pugni. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal PM Sargiudini, hanno portato all'apertura del processo. Prossima udienza, il 28 ottobre.